capitolo 67 per sua buona sorte ledgate era uscito perdente dalla sala da biliardo e non trassa alcun incoraggiamento a tentare un'incursione nel campo della fortuna al contrario provò un totale disgusto per se stesso il giorno successivo quando dovete pagare 4 o 5 sterline in aggiunta a quanto aveva guadagnato in aggiunta si porta dietro una visione assai sgradevole della figura fatta non solo stringendo confidenza con gli uomini del green dragon ma comportandosi esattamente come loro un filosofo che si riduce a scommettere ben difficilmente si distingue da un filisteo nelle medesime circostanze la differenza si troverà soprattutto nelle successive riflessioni del primo e l'idgate in questo senso cade in preda a meditazioni assai amare la ragione gli illustrava come con un minimo cambiamento di scena la faccenda si sarebbe potuta ingigantire portandola alla rovina se quella in cui era entrato fosse stata una casa da gioco dove la fortuna si poteva afferrare con entrambe le mani invece di venire raccolta tra il pollice e l'indice comunque sebbene la ragione soffocasse il desiderio di darsi al gioco d'azzardo gli restò la sensazione che se fosse stato sicuro che la fortuna gli arridesse fino alla somma necessaria avrebbe preferito giocare d'azzardo piuttosto che scegliere l'alternativa che cominciava a imporsi come inevitabile questa alternativa consisteva nel rivolgersi a mister bald straw l'idgate si era gloriato tante volte sia con se stesso che con altre di essere del tutto indipendente da bald straw ai cui progetti egli si era prestato solo perché questi gli consentivano di realizzare le proprie idee in tema di lavoro professionale e di pubblica utilità nei loro rapporti personali aveva costantemente conservato il proprio orgoglio sostenuto dal senso di fare un bonus in campo sociale di questo banchiere autoritario le cui opinioni considerava spregevoli e i cui moventi gli sembravano spesso un misto assurdo di impressioni contraddittorie al punto che forti ostacoli psicologici lo trattenevano da sottoporgli una qualsiasi richiesta considerevole di tipo personale pure all'inizio di marzo la sua situazione economica è raggiunta al punto in cui gli uomini cominciano a dire di aver pronunciato i propri giuramenti senza sapere quello che facevano e rendersi conto che il gesto che avevano definito impossibile per loro sta diventando palesemente possibile con la preoccupante garanzia data ad over in procinto di venir presto messo a effetto con ricavato della sua professione immediatamente assorbito per pagare i debiti arretrati e con la prospettiva se il peggio si fosse venuto a sapere che gli rifiutassero di fargli credito sulle provviste quotidiane soprattutto con l'immagine della disperata scontentezza di rosamond che lo assillava di continuo leadgate aveva cominciato a capire che avrebbe dovuto inevitabilmente piegarsi a chiedere aiuto a qualcuno da prima aveva dibattuto fra se e se avesse dovuto scrivere a mister vincy ma interrogando rosamond era venuto a sapere che come aveva sospettato lei si era rivolta già più volte al padre l'ultima dopo la delusione della lettera di sir godwin il padre aveva detto che leadgate doveva trarsi l'impaccio da solo il babbo detto che si è ridotto con una nata cattiva dopo l'altra a commerciare sempre più con del capitale preso a prestito e ha dovuto rinunciare a molte debolezze non può togliere neppure 100 sterline dalle spese per la famiglia ha detto che leadgate si rivolga a balstraud sono stati sempre in confidenza in effetti leadgate stesso raggiunto alla conclusione che se doveva ridursi a chiedere un prestito senza ipoteche i suoi rapporti con balstraud almeno più che con chiunque altro potevano assumere la forma di una pretesa che non fosse puramente personale balstraud aveva indirettamente contribuito alla diminuzione dei suoi pazienti e inoltre aveva tratto motivo di grande compiacimento nel trovare un socio medico per realizzare i propri piani ma chi di noi si era mai ridotto al genere di dipendenze in cui leadgate ora si trovava senza cercare di credere di vantare dei diritti che diminuissero l'umiliazione di una richiesta era vero che negli ultimi tempi l'interesse di balstraud per l'ospedale sembrava nuovamente languire ma la sua salute era peggiorata e mostrava segni di una malattia nervosa profondamente radicata sotto altri aspetti non sembrava mutato era stato sempre a se cortese ma leadgate aveva osservato in lui fin dal principio una notevole freddezza nei riguardi del suo matrimonio e di altre faccende private una freddezza che finora aveva preferito al calore di qualsiasi familiarità rimandava il proposito di giorno in giorno la sua abitudine di agire in conformità alle proprie decisioni era scalzata dalla sua avversione riguardo a qualsiasi possibile esito e alle successive conseguenze vedeva spesso mr balstraud ma non cercava di approfittare di alcuna occasione per i suoi scopi personali a volte pensava gli scriverò una lettera meglio così che qualsiasi discorso tortuoso altre volte pensava no se gli parlassi potrei tirarmi indietro al primo segno di riduttanza pure i giorni passavano senza che scrivesse nessuna lettera o cercasse un particolare colloquio nel ritrassi dall'umiliazione di un atteggiamento di dipendenza da balstraud cominciò ad accarezzare nella fantasia un altro passo ancora meno tipico della sua personalità di un tempo cominciò spontaneamente a pensare se sarebbe stato possibile mettere in esecuzione quell'idea puerile di rosamon che spesso l'aveva mandato in bestia vale a dire lasciare middlemarch senza vedere nulla oltre quel primo passo si presentò alla domanda sarebbe qualcuno che comprerebbe da me la clientela per quel poco che vale allora la vendita potrebbe presentarsi come una preparazione alla partenza ma contro questo passo che tuttora gli considerava uno spregevole abbandono dell'attuale lavoro un colpevole distogliersi da quello che poteva diventare un'attività degna ricominciare da capo senza alcuna destinazione precisa si opponeva a questo ostacolo che il compratore se mai lo si fosse riuscito a trovare poteva non presentarsi subito e poi rosamond in una misera abitazione anche se nella capitale più grande nella città più distante non avrebbe trovato la vita che l'avrebbe potuta dissogliere dalla tristezza e che gli avrebbe risparmiato il rimprovero di avercela cacciata infatti quando un uomo è ai piedi del colle delle sue fortune può darsi che ci resti a lungo a dispetto della sua bravura professionale nell'ambiente inglese non esiste incompatibilità fra intuito scientifico e un appartamento ammobiliato l'incompatibilità sta soprattutto fra l'ambizione scientifica e una moglie che non accetta quel genere di sistemazione ma in preda alle sue esitazioni gli si presentò l'occasione che lo spinse a decidersi un biglietto da parte di mister balstro gli chiedeva di passare da lui alla banca negli ultimi tempi nel carattere del banchiere si era rivelata una tendenza ipocondriaca e un'insonnia che in realtà era solo una lieve esagerazione di un abituale sintomo di speptico lo aveva preoccupato come sintomo di follia incombente quella particolare mattina vuole consultare lidgate senza indugio sebbene non avesse da dire nulla oltre a ciò che aveva già detto prima ascoltò con ansia quando lidgate aveva da dire per dissipare i suoi timori sebbene anche queste fossero già cose ripetute e quell'occasione in cui balstro ascoltava l'opinione di un medico con una sensazione di conforto a lidgate parve rendere la rivelazione di un bisogno personale più facile di quanto avesse immaginato in precedenza aveva insistito sul fatto che balstro avrebbe fatto bene a distrarsi dagli affari si può vedere come qualsiasi sforzo mentale per quanto lieve possa influire su una costituzione delicata disse lidgate a quello stadio della visita in cui le osservazioni tendono a passare dal personale al generale dal segno profondo che l'ansia lascia per un certo tempo sulle persone giovani e vigorose io sono per natura assai forte e pur ultimamente sono stato assai scosso da un accumularsi di preoccupazioni suppongo che una costituzione nello stato sensibile in cui la mia al momento si trova sarebbe in tal modo particolare soggetta a cadere vittima del colera se si diffondesse nel nostro distretto e visto che è comparso vicino a londra faremmo bene a invocare protezione al trono di dio disse mister balstro non allo scopo di eludere l'allusione di lidgate ma sinceramente allarmato per sé voi ad ogni modo avete fatto la vostra parte per introdurre buone precauzioni pratiche per la città e questo è il modo migliore di chiedere protezione disse lidgate con un profondo disgusto per la debole metafora e la logica malferma della religione del banchiere in certa misura ha cresciuto dall'evidente assenza della sua comprensione ma il suo pensiero aveva preso la direzione da tempo prevista di ottenere aiuto e non si era ancora fermato aggiunse la città ha fatto un bel lavoro per quel che riguarda la pulizia nel trovare le misure adatte e penso che se colera arrivasse anche i nostri nemici ammetterebbero che le disposizioni nell'ospedale sono di pubblica utilità è vero dice balstro con una certa freddezza riguarda quello che dite mister lidgate sulla distensione dalla mia fatica mentale è da un certo tempo che nutro un disegno in quel senso un disegno assai deciso mi propongo un ritiro per lo meno temporaneo della direzione di gran parte dei miei affari sia di carattere commerciale che benefico inoltre penso di cambiare residenza per un certo tempo probabilmente chiuderò o affitterò the shrubs e andrò ad abitare in qualche posto vicino alla costa consigliandomi naturalmente riguardo alla sua salubrità sarebbe una misura che raccomandereste oh sì disse lidgate cadendo all'indietro nella sedia con malcelata in sofferenza davanti agli occhi pallidi e seri del banchiere intensamente preoccupato per se stesso da un po di tempo penso che dovrei affrontare con voi questo argomento riguardo al nostro ospedale continuò balstro nelle circostanze di cui vi ho parlato è naturale che io debba cessare di avere una qualsiasi partecipazione personale nella direzione ed è contrario alle mie concezioni della responsabilità continuare a profondere una gran quantità di mezzi in un'istituzione che non posso sorvegliare e in certa misura guidare perciò nel caso di una mia decisione definitiva di lasciare middlemarch dovrò pensare a ritirare qualsiasi appoggio all'ospedale tranne quello che sussisterà nel fatto che sono stato soprattutto io ad affrontare le spese della costruzione e a contribuire con ulteriori grosse somma la riuscita del suo funzionamento il pensiero di litgate allorché balstro tacco per un attimo come era sua abitudine fu forse ha perso un sacco di soldi questa era la spiegazione più plausibile di un discorso che aveva provocato un mutamento piuttosto sorprendente nelle sue attese per tutta risposta disse la perdita per l'ospedale ben difficilmente si potrà riparare temo difficilmente li batte balstro con lo stesso deciso tono argentino se non con qualche mutamento nel progetto l'unica persona su cui si può sicuramente contare per la sua disponibilità ad aumentare il proprio contributo è missis casevo ho avuto un colloquio con lei sull'argomento e le ho fatto notare come sto per fare con voi che sarà desiderabile procurare un appoggio più generalizzato al nuovo ospedale con un cambiamento di sistema un altro momento di pausa ma litgate non parlò il mutamento a cui alludo è una fusione con l'ospedale vecchio cosicché il nuovo ospedale sarà considerato una speciale aggiunta all'istituzione più antica con lo stesso consiglio di amministrazione inoltre sarà necessario che la direzione medica dei due venga riunita in tal modo qualsiasi ostacolo ad adeguato mantenimento della nostra nuova istituzione sarà superato gli interessi filantropici della città ci saranno di essere divisi ad una nuova pausa mister balstro abbassò gli occhi dal volto di litgate ai bottoni della sua giacca senza dubbio questa è una misura indovinata per quanto riguarda i modi e le maniere disse litgate con una punta di ironia nella voce ma non ci si può aspettare che io ne gioesca subito dato che una delle prime conseguenze sarà che gli altri medici scompiglieranno o interromperanno i miei metodi magari solo perché sono miei io stesso come sapete mister litgate do un grande valore all'occasione che vi ho dato di introdurre sistemi nuovi indipendenti che avete diligentemente impiegato quell'originale lo confesso era un progetto che avevo molto a cuore e mi ero sottomessa alla divina volontà ma dato che le indicazioni della provvidenza mi chiedono una rinuncia io rinuncio nel corso di questa conversazione balstrodi è di prova di un'abilità alquanto esasperante la metafora zoppicante la cattiva logica della motivazione che avevano suscitato il disprezzo nel suo ascoltatore erano del tutto coerenti con un modo di esporre i fatti che rendeva difficile a litgate esprimere la propria indignazione ed elusione dopo una qualche rapida riflessione chiese solo cosa ha detto mrs chesapo questa era la successiva dichiarazione che desideravo farvi disse balstro che aveva perfettamente preparato la sua spiegazione ministeriale lei è come siete al corrente una donna di natura assai monifica e per fortuna possidente non di un gran patrimonio presumo ma di fondi che può ben donare mi ha informato che sebbene avesse destinato la maggior parte di quei fondi a un altro scopo è disposta a riflettere se non possa prendere il mio posto in tutto e per tutto riguardo all'ospedale ma desidera che le sia lasciato molto tempo per decidere sull'argomento io le ho detto che non vi è alcun bisogno di fretta che in effetti i miei stessi progetti non sono ancora definitivi litgate stava per dire se mrs chesapo prendesse il vostro posto sarebbe tanto di guadagnato ma sulla sua mente gravava ancora un peso che soffocò questa allegra espressione di schiattezza e ribatté allora suppongo di poter affrontare l'argomento con mrs chesapo esattamente questo è ciò che lei desidera espressamente la sua decisione afferma dipenderà molto da ciò che saprete dirle ma non al momento credo sia proprio per intraprendere un viaggio o la sua lettera qui disse mr balstrow tirandola fuori e leggendo da essa in questo preciso momento o altri impegni dice sto per andare nel yorkshire con sir james e lady chetam e le conclusioni a cui giungerò a proposito di una certa tenuta che colla devo vedere potranno influire sulle mie capacità di dare un contributo all'ospedale cosicché è un mister litgate non è necessaria alcuna precipitazione in merito ma ho voluto mettervi a corrente prima di ciò che è probabile che accada mister balstrow ripose la lettera nella tasca della giacca e mutò atteggiamento come se il suo compito fosse terminato litgate le cui rinnovate speranze per l'ospedale lo rendevano ancora più consapevole dei fatti che le avvelenavano tali speranze avvertì che il proprio sforzo alla ricerca di un aiuto se mai lo avesse fatto doveva comperlo ora e con vigore vi sono molto obbligato per avermi informato esaurientemente disse con ferma voce e intenzione eppure con un'espressione rotta che mostrava di parlare contro voglia per me lo scopo più alto è la mia professione e ho identificato l'ospedale con il miglior uso che al momento posso fare di essa ma il miglior uso non corrisponde spesso col successo economico tutto ciò che ha reso impopolare l'ospedale ha contribuito con altre cause penso che siano tutto il rapporto con il mio zelo professionale a rendermi impopolare come medico generico ho soprattutto pazienti che non sono in grado di pagarmi sarebbe l'ideale per me se non avessi nessuno da pagarmi a volta l'idgate attese un po ma balstro si limitò a chinarsi guardandolo fisso e lui proseguì con la stessa espressione rotta come se stesse mordendo uno sgradevole porro mi sono cacciato in difficoltà finanziarie da cui non vedo alcuna via di uscita a meno che qualcuno che abbia fiducia in me e nel mio futuro mi antecipi una somma senza altra garanzia mi era rimasto assai poco quando sono arrivato qua non ho speranze di ottenere denaro dalla mia famiglia le mie spese in conseguenza del mio matrimonio sono state molto superiori a quanto mi aspettassi il risultato al momento attuale è che ci vorrebbero mille sterline per liberarmi dai debiti voglio dire per liberarmi dal rischio che tutti i miei beni siano venduti in pagamento del mio debito più grosso oltre che per pagare altri debiti e lasciarmi qualcosa che ci dia un po di respiro con il nostro esiguo reddito ho scoperto che da escludere che il padre di mia moglie mi dia un tale anticipo ecco perché rivelo la mia condizione all'unico altro uomo di cui si possa ritenere che sia in qualche modo personalmente connesso con la mia prosperità o la mia rovina ridgate si destò a sentire le proprie parole oramai aveva parlato aveva parlato con lampante franchezza mister bastrò ribatte senza fretta ma anche senza esitazione questa notizia mi addolora però lo confesso non mi sorprende mister ridgate per parte mia mi sono rammaricato che vi siate imparentato con la famiglia di mio cognato che è sempre stata di abitudini prodighe che mi deve già molto perché la sostengo nella sua tale condizione consiglio che potrei darvi mister lidgate sarebbe che invece di impegnarvi in ulteriori obblighi e continuare una lotta dall'esito incerto dichiariate semplicemente bancarotta ciò non mi direrebbe le mie prospettive disse lidgate alzandosi e parlando con asprezza anche se la cosa fosse in sé più gradevole è sempre una tribolazione disse mister balstro ma le tribolazioni mio caro signore sono il nostro destino quaggiù è un correttivo necessario vi raccomando di riflettere sul consiglio che vi ho dato grazie disse lidgate senza quasi rendersi conto di quel che diceva vi ho preso troppo del vostro tempo vi saluto capitolo 68 quel cambiamento di programma e mutamento di interesse che balstro comunicò rivelò nel suo colloquio con lidgate era stato provocato in lui da qualche dura esperienza che aveva avuto dall'epoca della vendita all'asta di mister larker quando raffles aveva riconosciuto will ladislav e il banchiere aveva tentato in vano di compiere un atto di risarcimento che avrebbe potuto indurre la divina provvidenza ad arrestare delle dolorose conseguenze la sua certezza che raffles a meno che non fosse morto sarebbe tornato a middlemarch entro a breve tempo era stata confermata la vigilia di natale questi si era rifatto vivo a the shrubs barstro era in casa ad accoglierlo e impedire che parlasse con il resto della famiglia ma non potete il tutto evitare che le circostanze della sua visita lo compromettessero e allarmassero la moglie raffles si dimostrò meno malleabile che in occasione delle sue visite precedenti il suo stato cronico di agitazione mentale effetto crescente di un'intemperanza abituale scacciava rapidamente ogni impronta di ciò che gli veniva detto insistete a voler restare in casa e balstroso pesati i due mali capì che questa almeno non era un'alternativa peggiore di una sua visita alla città per la serata lo tenne nella propria stanza e lo accompagnò a letto mentre raffles per tutto il tempo traeva piacere dall'irritazione che arrecava a questo rispettabile e assai prosperoso complice di delitti un piacere che egli con aria faceta espresse come partecipazione per la gioia dell'amico nell'intrattenere un uomo che gli era stato utile che non aveva avuto interamente quanto si era guadagnato sotto questo scherzo rumoroso vi era un abile calcolo una fredda decisione a istorcere qualcosa di più sostanzioso da balstroso per liberarlo da questa nuova tortura ma la sua astuzia era andato un po' troppo in là balstroso era in effetti più torturato di quanto la rozza fibra di raffles gli consentisse di immaginare aveva detto alla moglie che si stava semplicemente prendendo cura di questa persona disgraziata vittima del vizio che altrimenti avrebbe potuto nuocere a se stessa sottintendeva senza ricorrere alla forma diretta della menzogna che c'era un vincolo familiare che lo obbligava a questa sollecitudine e che raffles vi erano segni di alienazione mentale che imponevano cautela lui stesso avrebbe portato via in carrozza quella persona disgraziata il mattino successivo con questi accenni e li pensava di fornire a mrs balstroso delle informazioni cautelative per le figlie e la servitù e di spiegare perché non permetteva a nessuno tranne se stesso di entrare nella stanza addirittura col cibo e le bevande ma se deve impreda la paura tormentosa che raffles venisse udito mentre faceva chiari riferimenti ad alta voce a fatti trascorsi che mrs balstroso fosse addirittura tentata di ascoltare alla porta come poteva impedirglielo come tradire il proprio terrore aprendo la porta per scoprirla era una donna delle abitudini franche e oneste ed era poco probabile che si abbassasse a un simile gesto per giungere ad una dolorosa verità ma il timore era più forte del calcolo delle probabilità in tal modo raffles aveva spinto la tortura troppo in là e aveva prodotto un effetto non contemplato nei propri piani con la sua condotta disperatamente intrattabile aveva indotto balstroso a pensare che un forte senso di sfida fosse l'unica risorsa rimastagli quella sera dopo aver portato raffles a letto il banchiere ordinò che la carrozza chiusa fosse approntata per le sette e mezza del mattino successivo alle sei era già vestito da tempo e aveva trascorso parte della propria tristissima attesa immerso nella preghiera difendendo le motivazioni che lo avevano indotto a scansare il male peggiore anche se era ricorso alla menzogna e non aveva detto il vero agli occhi di dio infatti balstroso rifugiva dall'aperta menzogna con un'intensità sproporzionata al numero delle sue malefatte più indirette ma molte di queste malefatte erano come i sottili movimenti muscolari di cui consapevolmente non si tiene conto sebbene portino allo scopo su cui fissiamo la nostra mente e che desideriamo ed è solo ciò di cui siamo chiaramente consapevoli quello che possiamo immaginare che sia visto da dio onnisciente è solo ciò di cui siamo chiaramente consapevoli